e l'attaccante del Verona. Poco dopo, leggerezza di Brosco, palla regalata, Martigno subito per Caccia che va giù in aria sull'attacco di Fazio, per i Ratti ci sono gli estremi del calcio di rigore e per l'espulsione del difensore della Ternana che sposta la palla con la punta del piede sinistro ma sbilancia anche Caccia che va dunque al tentativo di trasformazione, non si muove neanche Ambrosi, decimo gol in questo campionato per Caccia che provocatoriamente porta la mano destra all'orecchio proprio davanti al settore occupato dagli ultra della Ternana tant'è che arriva anche un rimprovero di Cacciatore, compagno di squadra, nei confronti di Caccia. Rigore che andava ripetuto, 11 giocatori in aria prima del tiro di Caccia, 4 erano del Verona.